Amelie ha la sensazione improvvisa di essere in totale armonia con se stessa. In quell'istante è tutto perfetto. L'amitezza del giorno, quel profumino nell'aria, il rumore tranquillo della città, inspira profondamente la vita e appare semplice e limpida. Ad un tratto si sente sommersa da uno slaggio d'amore, un desiderio di aiutare l'umanità intera. Il favoloso mondo di Amelie. Danzano Valentina Ocasti e Alice Giampieri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.